Salve, sono Diletta, dottoressa in chimica e tecnologie farmaceutiche. Dopo circa un anno della mia laurea, ero alla ricerca di un percorso formativo che mi introducesse all'industria farmaceutica. È così che ho trovato il Master in Management e Marketing dell'Industria Farmaceutica di Alma Laboris Business School. Ho scelto questo Master perché dà un'idea generale su tutte le possibili posizioni che si possono ricoprire all'interno di un'industria farmaceutica e anche perché permette di coinciliare il lavoro con le lezioni del Master, in quanto le lezioni si svolgono nel weekend. Le lezioni possono essere eseguite sia in modalità online a distanza che in presenza, ma posso dire che le lezioni online sono perfettamente equiparabili a quelle in presenza, in quanto i professori che tengono il Master rendono le lezioni molto interessanti, dinamiche e interattive, grazie anche a esercitazioni pratiche e di gruppo. Grazie a questo percorso formativo che ho intrapreso, sono ad oggi stagista presso un'industria farmaceutica nel reparto di ricerca e sviluppo. Consiglio a tutti quindi questo tipo di Master, a tutti coloro che sono interessati al farmaceutico, ma che ancora non si sono specializzati in una posizione specifica e che vogliono indirizzarsi verso quello che più li possa interessare.